L'Università d'Estadi sull'Intelligence svolta a Soverea Mannelli per tre giorni consecutivi, la prima del nostro Paese organizzata dal Master sull'Intelligence dell'Università della Calabria insieme con la Fondazione Italia Domani è un punto di forza molto importante per cercare di fare conoscere a livello popolare questa disciplina così importante, questa materia così calda della quale i giornali parlano quotidianamente e le televisioni diffondono come strumento fondamentale per contrastare il terrore. Riteniamo che quello che si è fatto a Soverea Mannelli in questi tre giorni sia importante, con relatori di grande qualità, affrontando temi di grande spessore. Parlare dei controlli parlamentari oppure della geopolitica o dei rapporti tra intelligence e magistratura significa toccare il cuore del problema. Abbiamo ascoltato delle analisi interessanti, abbiamo visto chi interpreta l'intelligence come stazione meteorologica di questi tempi, come anima dello Stato, come cuore delle istituzioni. C'è un grande bisogno di sicurezza e quindi di intelligence nel Paese e quindi l'investimento nell'intelligence è un investimento sul futuro. Grazie a tutti.